Arriva l'ordinanza numero 45 dell'8 maggio 2020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 ad emanarla la regione Campania. In particolare l'ordinanza prevede a decorrere dall'11 maggio e fino al 17 maggio è consentita la ripresa delle attività mercantili nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari nel rispetto delle prescrizioni previste dalle linee guida. È consentito svolgere attività sportiva individuale dalle ore 5.30 alle ore 8.30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali, senza limiti di orari nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività in caso di presenza, ovvero di afflusso di persone, in misura tale da determinare rischi di assembramento.